esempio di gestione di un anello con 16 led rgb tipo vs 2812b tramite un modulo su cui è presente un pulsante pattile direzionale e due pulsanti normali sull'anello si accenderanno i led che indicheranno visivamente il pulsante attivato vediamo prima di tutto alcune informazioni relative ai componenti che utilizzeremo anello a tecnologia neopixel con 16 di o di led rgb tipo ws 2812b gestibili individualmente ogni led può produrre 256 tonalità per un totale di più di 16 milioni di colori il canale dati per la comunicazione di tipo seriale ad un filo vediamo ora il pulsante di navigazione a 5 direzioni il modulo è di piccole dimensioni misura solo 4 per 2,5 centimetri circa sul modulo sono presenti oltre che al pulsante di navigazione tattile a 5 direzioni due pulsanti e una pinstripa 8 poli per il collegamento vediamo ora la scheda di controllo utilizzata si tratta di una key studio plus questa è perfettamente compatibile con la arduino uno e con l'ambiente di sviluppo arduino ide contiene tutte le funzioni della scheda arduino con alcuni miglioramenti che ne rafforzano la funzione il chip di conversione usb seriale è il tipo cp 2102 alla scheda possono essere collegati dispositivi alimentati sia a 3,3 che a 5 volt selezionata tramite un deviatore il range della tensione di alimentazione è compreso tra i 6 e 15 volt la corrente massima è di 2 ampere sono disponibili inoltre due porte analogiche aggiuntive sono disponibili poi un gruppo di sei connettori a cui collegare direttamente sensori digitali o dispositivi come dei servomotori troviamo poi sei connettori per le porte analogiche a cui collegare sensori analogici a 3 pin troviamo due connettori con 4 pin uno con accesso ai pin della porta dati e l'altro alla porta i 2c il connettore della porta usb è ora il type c vediamo ora i collegamenti da stabilire tra il modulo tattile l'anello con il led rgb e la scheda di controllo oltre allo schema vi sarà d'aiuto la tabella per il corretto funzionamento del programma occorrerà verificare che sia presente l'apposita libreria chiamata neo pixel nel caso occorrerà caricarla sul sito il link lo troverete in descrizione potrete trovare il codice all'interno sono presenti dei commenti che dovrebbero rendere abbastanza semplice comprenderne il funzionamento a seconda della direzione in cui è premuto il tasto si accenderanno sull'anello i led che ne indicheranno visivamente la direzione prima del cambiamento del colore dei led tutti si accenderanno di colore blu pasto in alto pasto in basso pasto a sinistra pasto a destra pasto premuto pasto set premuto pasto reset premuto altre informazioni potranno essere trovate sul sito trovate i link in descrizione e ricordate mettete mi piace e attivate la campanella grazie visitate il sito www.adrirobot.it